Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Come ogni settimana, saranno tre i concorrenti che si sconteranno in un ballottaggio che deciderà l'eliminazione definitiva di uno di loro dal programma. I ragazzi in sfida saranno Alessio, Angelina e Mattia. Tuttavia, il nome del concorrente eliminato e che quindi dovrà abbandonare il serale di Amici proprio questo sabato sarà annunciato soltanto da Maria De Filippi durante la puntata. Possiamo però anticipare che Angelina sarà la prima concorrente a salvarsi dal ballottaggio, lasciando dunque la sfida finale ad Alessio e Mattia. Si disputeranno quindi le solite tre manche di sfide con protagoniste le tre squadre capeggiate dai professori, nella prima tornata sarà la squadra Cuccarini-Emanuello, pescata a sorte per dare il via alla gara, a sfidare quella di Arisa Todaro, uscendone vincitrice. È in questa manche che Alessio si guadagna un posto tra i possibili eliminati. La seconda manche la squadra vincitrice della prima sfida ha voluto affrontare il team Zerbice Lentano, non riuscendo però ad assicurarsi anche questa vittoria. E dunque, è stata la cantante Angelina a poter rischiare l'eliminazione. Terza e ultima manche ha visto fronteggiarsi la squadra Zerbice Lentano con Arisa e Todaro, vincendo di nuovo. Dei tre allievi in gioco, a giocarsi il posto è infine Mattia. A questo punto è arrivato il ballottaggio finale per decretare l'eliminazione della serata che però risparmia Angelina, prima dei tre concorrenti a rientrare nel gioco.